Buongiorno a tutti, siamo alla quarta giornata dell'Etna Comics e oggi abbiamo come nostro intervistato Sdrumox Allora, Sdrumox, ciao Ciao, sono io Sono Daniele, in arte Sdrumox Allora, partiamo con una domanda molto semplice Sdrumox, questo nome, da cosa viene? Bellissima domanda, questa risposta c'è anche sull'internet, se la cerchi Comunque è molto strano, perché era in una live URL, con un risposto in cui ero con Paolo, che ho visto che c'è Deriva dal nickname che utilizzavo su World of Warcraft quando avevo 13 anni Volevo un nome cattivo, ma non troppo E invece, come seconda domanda, vogliamo chiederti Essendo tu uno streamer di Twitch, come mai hai voluto attenzionare più Twitch e non YouTube? Perché io facevo live e basta, non facevo video in generale Io lavoravo al MOBA, che è un locale di Unisport Gaming Bar Io lavorando là, giocando tantissimo a League of Legends, essendo un giocatore in primis Io volevo entrare in questo mondo qua, perché appunto vedevo Paolo, ero un grande fan suo Giocava sempre a livello molto alto Ho detto, perché no? Posso provarci, ero anche bravino Poi Twitch si è evoluto in maniera diversa Ho conosciuto anche Omi, che veniva come cliente al MOBA da me Io facevo il bartender E lui mi ha chiesto una volta Perché non vieni in live da me, facciamo qualcosa a caso La prima volta si è trovato bene La seconda pura, alla fine abbiamo cominciato a collaborare Da lì è nato tutto quanto E anche perché sono fermo a bannato Quindi non posso stare su Twitch adesso Quindi faccio su YouTube E a proposito di questo ban Tu come vedi queste regole di Twitch appunto? Cioè, il tuo ban pensi che sia stata una cosa giusta, diciamo Oppure pensi che sia stata soltanto inutile come ban appunto? Allora, inutile non è stato inutile Perché il periodo in cui mi hanno bannato Era un periodo di fuoco per Twitch Perché c'era la quarantena Quindi un carico di gente molto più alto rispetto al normale E si tendeva a utilizzare questa politica del terrore per spaventare E quindi la gente stava tranquilla Chi faceva live doveva avere un determinato comportamento da seguire Mettiamola così Quello che hanno sbagliato con me è stato il trattamento Più che il ban in sé Perché oggettivamente è sindacabile Comunque potremmo discuterne sul fatto che fosse un ban giusto o meno Ma quello che hanno sbagliato totalmente è stato il trattamento Come si sono comportati con me Mi hanno dato false speranze Mi hanno detto ritornerai Poi non ritorni Poi mi hanno gostato Poi mi hanno tolto la partner dopo due anni È stato un comportamento, diciamo, di un'azienda Secondo me che non è ancora consolidata per bene Come potrebbe essere YouTube, per esempio Perché non si comporterebbe mai in questa maniera YouTube, per esperienza personale Un saluto a tutti i ragazzi di Voce Libera Web Baka, no way home Ciao a tutti i ragazzi di Voce Libera Web Grazie a tutti i ragazzi di Voce Libera Web